Per noi che non conoscevamo ancora Floridia, ma avevamo tanto sentito parlare di questa città, è stata davvero un'esperienza splendida. Il piacere è una grande gioia avere queste accoglienze. Una persona che è partita quasi 50 anni fa con una sola velizia, con pochi soldi in tasca, e ritornare e avere queste accoglienze sono delle cose che non si possono esprimere. Quello che io sto sentendo in questo momento è come se fosse l'uomo più ricco, più felice del mondo. Per fare tutto questo non si può fare da solo, ci vuole una brava moglie. Io ho avuto questa fortuna di... Quindi questo applauso lo divido con mia moglie perché è stata una buona moglie e una buona madre. e grazie a tutti e speriamo di vederci tutti in America nel prossimo futuro. Allora un applauso grande lo dovete voi. No, 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 no. No, 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 no. Voi sapete come me face, voi sapete come me face. No, 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 no. Mi basta sticando me, mi basta sticando me. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.